Ciao capo, oggi è mercoledì, no? Oggi, bella, 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 bella giornata, no? Con un po' di vento. Senti capo, oggi è venuto Geometra in cantiere, no? Ha mangiato a trattoria, no? Tutto bene? È tornato in cantiere arrabbiato, morto, no? Dico, cosa è Geometra? Ho mangiato lì al ristorante con amici, ho dimenticato la borsa con portofoglio, no? Poi è tornato indietro a prendere la borsa, non l'ha trovato, Dio, mandano un massacro. Oh ragazzi, questo messaggio è per tutto il mondo. Quando trovate un portofoglio, una borsa che è in strada, che è al bar, che è a McDonald's, che è al supermercato, che è a discoteca, ho capito io che ci sono un po' di soldi. Prendete i soldi, 100 euro, 20 euro, prendi i soldi, però la borsa con i documenti lo portate lì indietro da qualche barman, l'ho portate da carabinieri, se non darle a qualcuno che conosce il mondo. Prendi i soldi, ma i documenti, lasciali, Dio, Madonna, che è un massacro. Se voi sapete cosa te ne fai con i documenti, con il banco non puoi fare niente, che si blocca la carta. Con carta di indietro non fai niente, con codici fiscali non fai niente. Cosa te ne fai con i documenti? Prendi i soldi e lascia la borsa da qualcuno. Avete capito? O vi sembra che parlo la lingua di grande onore? Dai, ciao a tutti i amici, buon mercoledì a tutti. Dai, ciao, ciao, ciao.